la voglio dedicare comunque al mio bambino Federico bravo bravo la sua vittoria grazie ma che carina Tatiana l'amma di Fedez ha dedicato la festa di compleanno al suo bambino Federico oggi quindi la festeggiano, sessantesimo compleanno, mega party l'hanno fatto sinceramente non so di preciso dove però c'erano tutti Ferragni, Sunniti, più parentato vestiti anche tutto sommato informali poi vedo baglioncini che girano non tanti vestiti da sera anche Francesca Ferragni, pure lei, molto informale si sono scatenati in trenini vari in karaoke, vi risparmio il pezzo dove Richiricoletti ha ripreso Valentina Ferragni, eccoli qua che fanno karaoke Francesca che cantavano a squarciagola e lui che riprendeva, al solito suo, un po' grunt vi lascio quindi con questa immagine di tutti e qua è il bacione tra i coniugi ciao